Oggi pomeriggio torniamo a impegnarci su un tema che è stato evocato più volte stamattina, addirittura qualcuno ha detto che non sarebbe male concentrarsi più che sui sistemi repressivi classici che ruotano attorno al diritto penale, su sistemi più moderni, più avanzati e cioè quelli della prevenzione. Si è detto con accenti diversi, mi pare, dottor Sabelli, lei che fa lì? Scusi, lei deve stare qua. Quindi affronteremo il tema della prevenzione giudizionale che in termini più maccheronici o meglio che più vanno nel dibattito pubblico riguardano le forme di aggressione dei patrimoni illeciti. Abbiamo una serie di relatori di primissima vaglia, la professoressa Anna Maia Mogheri dell'Università di Catania, che chi conosce e frequenta questi temi sa che è una delle massime esperte in materia di confisca. In Italia, il dottor Licata, in Europa, anche in tutto il continente, il dottor Fabio Licata, giudice del Tribunale di Palermo, che come sapete è il Tribunale che storicamente ha acquisito al patrimonio dello Stato più beni, addirittura si parla del 57% dell'insieme dei beni confiscati in tutta Italia, quindi sicuramente un po' di esperienza ce la potrà raccontare. E poi il dottor Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, ma direi che oggi è nelle vesti di sostituto procuratore della Procura di Roma, o comunque in entrambe le vesti. E poi abbiamo Stefano Musolino, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, altro presidio strategico che negli ultimi anni ha fatto registrare una impennata molto seria nelle capacità di aggredire i patrimoni mafiosi. Io inizierei subito col dottor Sabelli, prima però vi sarete accorti che c'è una musichetta che abbiamo da stamattina fatto sentire, ecco non è una musichetta a caso, è una canzone molto bella a cui siamo legati molti di noi, almeno molti della mia generazione, figli di Annibale, degli Alma Negretta. L'idea che c'è in questa canzone, tu sei troppo anziano, non è la nostra generazione, non ti farei coinvolgere in cose che non ti... altre cose. Ma questa... molti di noi, no molti, alcuni di noi hanno voluto con questo bel testo significare qualcosa di molto semplice, basidare. Io credo che come meridionali, come siciliani, come calabresi, come napoletani, come pugliesi, a noi non ci può liberare nessuno purtroppo. Possiamo liberarci da soli, dobbiamo liberarci da soli. Questo significa che ripensare l'antimafia significa anche un po' ridimensionare alcune forme, dal mio punto di vista, propagandistiche, che disegnano un avvenire nel quale ci sarà qualcuno che libererà il Sud da questo cancro che ci portiamo da almeno 150 anni, ma non sarà così. Perché, e soprattutto se questo liberatore viene da Torino, da Milano, io lo escluderei. Nel senso che quella è una forma di antimafia che noi crediamo debba essere superata. Anche perché quando si racconta, ed è una bella cosa, in giro per l'Italia, l'elenco delle vittime della mafia, noi dobbiamo sapere che il 98% di queste vittime della mafia sono dei siciliani, sono dei calabresi, sono dei campani. E questo avviene dal 1860 fino ad adesso. Questo per dire che l'antimafia nuova, che noi speriamo venga fuori nei prossimi mesi, nei prossimi anni, parta dall'idea che noi ci dobbiamo liberare con le nostre forze. Non ci sarà un liberatore. Passo la parola al dottor.